Che bellezza! Credo di aver superato me stessa! Wow! Non avrei mai detto che fosse una cosa buona! Maggio le mani! Ci ho messo così tanto per fare la torta! Non è per te! No, è per me! No! Dammela! Che confusione! Guarda cosa hai fatto! La torta è raminata! Ecco, Monica! Ecco, questa è la torta! Ti piace? Oh, così? Allora? La torta è più importante! Allora la prendi! Ma come si forfizie! Ma perché l'hai fatto? Basta! Adesso risolveremo tutto in una sfida! Monica, gira la ruota per prima! No! Non voglio un cactus! Ma si vuole mangiare un po' di panna! No, non si fa! Cactus è un cactus! Sei sfortunata! E non per occuparti! Questo significa che sarò furtata io! E tu sarai felice per me! Vediamo! Sì, te l'avevo detto! Non c'è niente di più gustoso di una gomma fibabuba! Soprattutto quando ce n'è così tanta! Voglio essere fuori e decorare la mia torta! Sarà una cosa molto buona e molto bella! Awesome! Non male! Ma che bella che è questa torta! E non è tutto! E con il resto posso fare un cuore! Che bellezza! Dai, Monica! Com'è? È molto bella questa torta! Devo provarla! Ehi! Sì! È così buona! Voglio mangiare tutta la torta! Posso provare? No, no! È mio! È mio! Vuoi vedere la bolla più grande della tua vita? Non hai voluto condividere? E io non voglio vedere la tua bolla! Prendi! Cosa? Ma come ti sei permessa? Oh, guarda! Guarda la mia faccia! Dai, basta ridere! Mangi il tuo cactus! Ma come faccio a mangiarlo? Il cactus è così pungente! Sì, lo so! Devo eliminare tutti gli aghi! Sarà una cosa molto facile! Allora, le forbici per lunghe non saranno sufficienti! E queste sono troppo grandi! Penso che queste forbicine sono ottime! Oh, che noia! Aspetta! Ora rimane solo una cosa da fare! Ecco, devo mettere il cactus! Tutto sulla mia torta! Guarda cosa ho inventato! È molto carino! Dai, basta! Mangia! Ok! E spero che sia buono! Oh no! È come se mangio la torta al sapore d'arba! Che schifo! Buon appetito! Buon appetito! Voglio girare per prima! Ma mi sto prendendo in giro! Odio le cazze! Perché sono così sfortunata? Perché sarò io quella fortunata? E prendo la panna! E adesso le versi sulla torta! E sarà ancora più buona! L'importante è montarla bene! E adesso posso mangiare! Bambù Natale! Oh no! Bambù Natale! Che ci fai qui? Il Capodanno è ancora lontano! Oh che ridere! Sei gelosa! Ho così tanta torta! Buonissima! Anche io voglio provare! Dai su che aspetta la torta! Però con le cazze! Sono così cattive! E rigide! Guarda! Ho perso un dente! Non le toccherò più! Dai! Non le sai aprire! Guarda! Non devi mangiare le conchiglie! L'importante è essere al cuore quello che c'è dentro! Guarda! E adesso? Decora la tua torta! Oh che putte! E devo mangiarla! Sì! Non riesco neanche a provare! No! Ho rovinato la torta! Defendo vomitare! Sto per vomitare! Wow! Una perla! Susi vai via! No! Io ho aperto le cose! Quindi la perla è mia! No! 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 È mia! No! Le cose erano mie! No! La perla è mia! Oh no! E dov'è adesso? Devo trovarla per prima! Perché tu? Io la troverei mia! Ma? Ma perché? Non c'è nulla! Non c'è! Ma perché l'abbiamo fatto? Questa volta è la torta! Questa volta tocca a me, Gerardo e prima! No! A me! Volevo assaggiare questi marshmallow! Con loro la torta sarà ancora più buona! E posso fare delle treccine? Vabbè, dai! Vediamo cosa ho io! Non è la mia giornata! Guarda quanti d'asciola che c'ho! Sì, sì! Con cui devi decorare la torta! Dai, su! Cosa spezzi? Vai! Ok! Va bene, Devo! Fatto! Non ho mai provato una torta così strana! Oh, no! Faschita! Oh, no! Cos'è questo suono? Devo tapare gli orecchie! Bingo! Ho un'idea! Se avrò solo l'acqua bollente sulla mia torta... Ecco! Sarà più buona! Bello! Ora ho un buon piatto da mangiare! Woohoo! Ti piace? Beso finché Monica mangia quelle schifezze... Deve decorare la mia torta con i marshmallow! Guarda! Che bellezza! Monica, non sognare! Tu hai già pranzato, eh? Non ti spiace se io prendo una treccina? Dai, non essere avida! Ah! Che fai? Cosa hai fatto? Guarda, mi sono fatta male! Ma comunque... È buona! Dai, su! Vediamo chi gira per primo! E vai! Io ho vinto! Peperoncino! No! Monica, guarda! Mi hai contagiato con la sfortuna! Dai, spero di essere fortunata! Finalmente! Posso mangiare gli occhi gommosi! No! Piu! Ecco! Voglio decorare la torta! No! 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 Devo mettere sulla torta tutto! Che bellezza! Awesome! Finalmente! Mi aspetto qualcosa di molto molto buono! Dai! Susy, non c'è da niente! Mangio tutto quanto da sola! Awesome! Sì! Oh, che bontà! Monica, ma tu pensi che io non posso prendere nulla? No! Oh! Ovida! Aspettavo questo momento così a lungo! Finalmente posso gustare tutta la torta! Oh! Che velocità! L'ultimo occhio! Lo mangio in maniera un po' strana! Oh! Non ce l'ho fatta! E io l'ho presa! Non sono così buoni! Dai! Ladra! Mangia! No! Non posso neanche guardarli! Spero di non bruciare dall'interno! Sì, aiuto! Grazie! Dai! Su! Eto il voltello! Taglia! Mangiamo! Brucia! Non ce la faccio! Non è abbastanza mancia? Non pensavo che tu fossi così crudere! Oh, no! No, il fuoco è troppo! E ora è di salvare Susie! Oh, mi sento meglio! Grazie, Monica! Iscriviti su Baradà! Perché qui troverete sempre sfide originali, divertenti e molto interessanti! Ciao, ciao!